E' successo, mi sono tinto di nuovo i capelli Buon day, benvenuti in questo nuovo video Oggi scoprirete di che colore mi sono tinto i capelli Vedremo la reazione dei miei familiari Di mia nonna, di mia sorella, di mia mamma Avete ancora qualche secondo per mettere un bel mi piace E commentare con scritto secondo voi di che colore me li sono fatti Prima che io mi tolga il cappello Quindi commentate Così poi vediamo chi ci ha azzeccato Ok, è arrivato il momento di scoprire di che colore mi sono fatto i capelli Sono diventato un sessantenne raga Sono fatti i capelli bianchi, grigi, non so, non so che colore sono Però ecco Adesso possiamo andare a vedere la reazione dei miei familiari Solo per questi capelli, solo per questa pazzia Vi ricordate di lasciare un bel like, arriviamo a 10.000 Tra l'altro la reazione è stata anche un po' più forte Soprattutto da parte di mia mamma Perché appena avevo fatto i capelli avevo delle ciocche lilla Che però col primo lavaggio sarebbero andate via E quindi cioè, pensavo che gli stessi facendo uno scherzo Però in realtà me ne sono davvero fatti bianchi Ciao papà Sei venuto? Sì Grazie, grazie Grazie, grazie Grazie, grazie 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 Se avete visto il video tanto per vedere Potete lasciarmi un bel mi piace Che ci mettete due secondi E noi ci vediamo a un prossimo video Ciao